ragazzi oggi farò la reaction a un cibo biscotti il biscotto di minecraft nella vita reale buono è un po troppo dolce ma perché è grande così scatole così il biscotto grande da qui a qui che sono 15 centimetri di biscotto sta di cioccolato cioccolato se lo volete se lo volete scrivetevi questo codice se lo volete lo vendi in abrusso in abrusso comunque questi l'ho presi da macchinetti di scuola scade 16 scade il 16 ottobre 2021 quindi scade 16 ottobre oggi è 26 gennaio questo bisocco cioccolato di gioco è un bisocco cioccolato buono e mangiato già una questo mai giù domani mattina mi rende perché buoni dopo queste video come vedete giocare rocchette leg se volete entrate pure mio gruppi in gruppi e far vedere voi profilo di club ecco mio club è questo club e to ita orsi polari i membri per ora sono io mio fratelli tutti quattro e poi è basti come si fa reclutare come si fa reclutare se volete giocare con me io sono i fefo isole fefo isole su rocchette mio fratello ryan stefanelli 1 poi l'altro mio fratello ale l'altro fratello krikro 2340 e poi c'è black legend 9804 io ho fatto questo basta ciao 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 ciao